B ed Orgoglio Diff, Orgoglio Diff è il più giocato. Chiusura delle ali, Ontario Regal è il più veloce. Scavalca all'interno Carina Vita. Ci prova dalla seconda fila Orgoglio Diff che riesce a scavalcare Oidio Getta e punta in avanti. 200 iniziali, percorsi da Ontario Regal in 16 scarsi. Ontario Regal a comandare Suo Carina Vita a largo oro giallo par con in schiena Ea Orgoglio Diff. Poi muove in terza ruota Oidio Getta, quarta in 31 e 5, sposta a Orgoglio Diff in anticipo Suoidio e punta in avanti. Orgoglio Diff cerca di scalcare Oro Giallo Parra, ma oggi Ontario Regal corre davanti, almeno fino a questo momento. 46 e mezzo, i 600, passaggio davanti alle tribune. Ontario Regal, Orgoglio Diff, o Carina Vita. Poi Orata Jet, si muove anche Pelé Tommy che va in seconda pariglia esterna, anzi Omero Tommy. 1-2 e mezzo, gli 800, Ontario Regal ed Orgoglio Diff alle prese, o Carina Vita ed Omero Tommy in seconda pariglia. Oidio Getta, scatta a centropista, chilometro in 19 e 3, con Oidio Getta che punta in avanti, va ad attaccare i primi. Ontario Regal, Orgoglio Diff ed Oidio Getta su di una linea. Lungo la corda c'è Ocarina Vita che cerca il barco propizio. Va di dentro anche Orata Jet, 1-34 e 2, tre quarti di miglio. Ontario Regal, alle prese con Orgoglio Diff, si avvicina a Omero Tommy. Ontario Regal prende vantaggio ad Ocarina Vita ed Orgoglio Diff. Ontario Regal in chiaro vantaggio. Ontario Regal per proprio conto, al secondo, Omero Tommy, per il terzo, Orata Jet prevale su Ocarina Vita. Quindi 4-9-8 è l'arrivo probabile ed ufficioso da un capo all'altro. Un cost-to-cost per Ontario Regal e Vincenzo D'Alessandro. Media probabile di 1-16-9, 29-5 il quarto conclusivo. Andiamo a rivedere le battute conclusive con un figlio di Uronometro e Gioia RJ che si afferma con una certa facilità nei confronti di Omero Tommy e Dorata Jet. I colori della Super Galaxi, il training di Giovanni D'Alessandro.